Vuoi imparare a cantare o a suonare uno strumento divertendoti? Stai cercando una scuola di musica adatta a te o ai tuoi figli? RC Music, con il suo team di insegnanti qualificati, offre corsi di canto, batteria, chitarra classica e moderna, pianoforte, basso elettrico, sax, flauto e violino, sia per adulti che per i più piccoli. RC Music propone anche corsi di musica d'insieme propedeutica per i bambini a partire da 3 anni. Disponiamo inoltre di sale prove attrezzate e climatizzate adatti ad ogni tipo di esigenza. Per maggiori informazioni contattaci adesso al 320 050 62 64 oppure visita il nostro sito internet rcmusic.it Basta parole, facciamo musica!